Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del TG La Sette. Iniziamo parlando della curva dei contagi da Covid-19 che cala costantemente nel nostro paese. Ieri il tasso di positività è sceso all'1%, l'indice R-T rimane sotto l'1% e il CTS nel frattempo ha dato il via libera alla somministrazione della terza dose, oltre che per i soggetti fragili, anche agli ultraottantenni e agli ospiti delle RSA. Terza dose avanti piano. Dopo i fragili, il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera agli over 80 e agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali. Non ha riscontrato invece la necessità di estendere il richiamo all'intera categoria degli operatori sanitari. Non sono soggetti ad alto rischio di ricovero o decesso. Solo medici e infermieri considerati fragili per età o per patologie dovranno, dopo gli over 80, effettuare un terzo richiamo. Manca del resto ancora un orientamento scientifico univoco sulla terza dose a persone considerate sane. Nessun dubbio invece per gli ultraottantenni e gli ospiti delle RSA, oltre 4 milioni di italiani, che presentano, se contagiati e non immunizzati, un rischio di ospedalizzazione 9 volte più alto e un tasso di mortalità 11 volte maggiore. La campagna vaccinale è intanto proiettata verso l'obiettivo dell'80% della popolazione immunizzata da centrare entro fine mese. Siamo al 77% negli ultimi giorni e è aumentato da 60 a 80 mila il numero quotidiano di somministrazioni di prime dosi. Questo ci mette nelle condizioni di governare meglio l'epidemia, ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza. La fascia dei cinquantenni però rimane la più restia a vaccinarsi. All'appello mancano ancora 1.600.000 over 50 che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose. Cresce invece l'adesione degli adolescenti, più 2% negli ultimi sette giorni, nella fascia 12-15 anni. Dato che l'Istituto Superiore di Sanità mette in relazione con la netta diminuzione di contagi tra i più giovani. Una circolare del Ministero della Salute ha poi prorogato al 30 novembre i certificati di esenzione alla vaccinazione che, secondo quanto stabilito in precedenza, sarebbero scaduti alla fine di questo mese. Tutto mentre i parametri della pandemia indicano una discesa di casi e ospedalizzazioni. Anche l'ultimo bollettino quotidiano ha confermato questa tendenza, con il tasso di positività sceso fino all'1% e il numero di posti letto occupati in terapia intensiva e nei reparti covid ordinari, anch'essi in diminuzione. Cambiamo argomento perché ieri, seconda giornata a Bologna, della manifestazione futura dedicata al lavoro organizzata dalla CGL proprio sul tema dell'occupazione, della programmazione economica. Il segretario Maurizio Landini, domani ci sarà l'incontro con il Governo, ha lanciato all'esecutivo un messaggio abbastanza chiaro. Aspettiamo risposte chiare, altrimenti siamo pronti a mobilitarci. Se il Governo non ci darà risposte nei prossimi giorni o dentro la legge di stabilità, siamo pronti alla mobilitazione. Le parole di Maurizio Landini hanno chiuso così la seconda giornata di futura a Bologna, la tre giorni della CGL dedicata al lavoro. Il segretario della prima sigla sindacale del Paese ha aperto anche al salario minimo e ha trovato sponda nell'asse PD 5 Stelle. Per un patto dobbiamo coinvolgere anche i sindacati, non solo Confindustria e associazioni di categoria, ha detto Giuseppe Conte. Per il Presidente del Movimento 5 Stelle insomma non si può tenere fuori dal dialogo politico nessuna rappresentanza del Paese. Conte risponde a Bonomi perché Draghi intenda. Salario minimo introdurlo subito fa eco nel pomeriggio di ieri con una nota congiunta dei deputati il Movimento 5 Stelle. E sul tema anche Letta era stato chiaro, dobbiamo aprire una discussione unitaria, credo sia una discussione matura, pronta da legare al dibattito europeo. Ma per la CGL servono però premesse indispensabili perché l'eventuale introduzione del salario minimo non si trasformi nell'ennesima mannaia delle aziende sui lavoratori. Bisogna partire dal fatto che la contrattazione collettiva non si tocca e anzi va resa più centrale e per farlo servirebbe una legge sulla rappresentanza che faccia chiarezza tra contratti validi e contratti fittizi. Insomma una partita che adesso va discussa col Governo. Per questo sono ore di studio da entrambe le parti, per arrivare con un quadro ben delineato all'incontro in programma domani pomeriggio tra il Presidente del Consiglio e i segretari delle tre principali sigle sindacali. Tutti sanno che non c'è tempo da perdere, le riforme sono sempre più necessarie e il tempo sempre di meno come per l'Italia, altra delicatissima questione su cui sempre domani è in programma un nuovo incontro. E tra una settimana esatta, domenica prossima, gli italiani andranno al voto per le consultazioni amministrative che leggeranno i sindaci in molte città importanti a cominciare dalla capitale. Dunque ultimi giorni di campagna elettorale con i partiti che sia nel centro-destra così come nel centro-sinistra sembrano andare un po' in ordine sparso. Domenica 3 ottobre il voto per il turno parziale delle amministrative che riguarderà anche le principali città come Roma, Milano, Napoli, Torino. Giorgia Meloni a Milano dice chiaro e tondo quali sono le sue ambizioni. Il mio obiettivo spiega è arrivare al governo della nazione. Per arrivarci a fare le cose coraggiose che ho in testa ci vuole una maggioranza molto ampia. E per avere quella maggioranza è importante che tutti i partiti del centro-destra crescano. Il partito di destra è anche opposizione sostanzialmente solitaria al governo Draghi. Dunque, sull'onda dei sondaggi, che da mesi lo vedono come quello con più consensi rispetto agli alleati, si proietta la guida del centro-destra. Meloni è da sola sul palco a Milano, a sostegno del candidato sindaco Bernardo scelto dalla Lega, così come Michetti a Roma per Fratelli d'Italia. Nessun evento unitario di fine campagna elettorale in programma per ora e l'idea di federazione, tanto cara Salvini come minimo accantonata, con Forza Italia che spera di non uscire troppo ammaccata dalla consultazione del 3-4 ottobre. Ma oltre ai rapporti tra i partiti di centro-destra, stressati dal governo Draghi che li ha divisi tra maggioranza e opposizione, il Carroccio vive anche un'inedita tensione interna che spesso divide i leghisti tra governisti e movimentisti, tanto che il ministro Giorgetti prova ad assicurare non esiste la Lega di Giorgetti, ma la Lega. Quanto mai incerto l'esito del voto a Roma. Il centro-destra fa fatica a sostenere con entusiasmo Corale il proprio candidato sindaco Michetti. Poi ci sono il sindaco Sciente, la 5 Stelle, Virginia Raggi che tenta la riconferma, ma che sembra lontana dai fasti del 2016, e Roberto Gualtiere e Carlo Calenda che si dividono il campo del centro-sinistra. A ravvivare il dibattito politico anche il tema degli eventuali ballottaggi, occhi puntati soprattutto su PD e 5 Stelle, dove si presentano divisi al primo turno, promuoveranno un accordo per il secondo come auspicano i DEM. Se il ministro pentastellato d'Incadda ha quasi per scontata l'intesa, il leader del movimento Giuseppe Conte gela tutti e spiega. Il problema del ballottaggio è presto detto, se in alcune situazioni non siamo andati insieme perché la sticella non era alta, il ballottaggio non risolve il problema. E a proposito di voto, oggi tocca ai tedeschi che a partire alle 8 andranno alle urne per indirizzare il loro nuovo futuro politico non più legato al nome di Angela Merkel, che dopo 16 anni di cancellierato lascia. Una tornata elettorale che dovrà appunto designare il successore della cancelliera, ma è così incerta nei sondaggi della vigilia. Alle 8 apriranno i seggi per il rinnovo del Bundestag in una delle tornate elettorali più incerte della storia del Repubblica federale tedesca. Incerto come lo scenario che si aprirà dopo il voto, che per la prima volta dopo 16 anni alla cancelleria non contemplerà più la presenza di Angela Merkel. Lei si è dovuta spendere fino all'ultimo giorno di campagna elettorale per il candidato della sede UCSU. Quell'Armin Laschet, precipitato nei sondaggi dopo una serie di gaff, ma dato in recupero negli ultimi giorni. Ieri, nel comizio di Aquisgrana, Merkel ha puntato proprio sulla stabilità e sulla continuità, quella che a suo avviso serve alla Germania. Paradossalmente, ma non troppo, visto il suo ruolo di vicecancelliere e ministro delle finanze nell'attuale governo di grande coalizione, anche lo spizzen candidato del Partito Socialdemocratico, Olaf Scholz, ha premuto molto su questo tasso da una prospettiva più progressista. Con successo, visto che ha rianimato una SPD data praticamente per morta fino a pochi mesi fa, ora infatti Scholz sarebbe in testa nella corsa alla cancelleria, in base a sondaggi che comunque rientrano tutti nel margine di errore. I cristiano-democratici sarebbero indietro, nella peggiore delle ipotesi, di appena tre punti, 22% contro 25%. Di sicuro, chi prenderà il posto di Merkel lo farà, la guida di una coalizione, con ogni probabilità di una coalizione composta da più di due partiti. Scholz ha detto ieri che i suoi partner preferiti sarebbero i verdi, di Anna-Lena Baerbock, passati in poche settimane da possibili, favoriti ad ago della bilancia dati al 16%, alla luce dei sondaggi però, difficilmente. In caso di successo della SPD, una alleanza rosso-verde basterebbe a formare una maggioranza di governo e potrebbero diventare determinanti i liberali della FDP, in crescita e in grado, come i verdi, di giocare su più tavoli per un post-voto, che si annuncia lungo e complesso, con addirittura cinque coalizioni possibili. E adesso torniamo ad occuparci della vicenda che è riguardata, e riguarda ancora Carles Puigdemont, l'ex presidente della Generalitat Catalana, indipendentista, ieri è stato accolto dalla popolazione di Alghero, sindaco in testa, con grande entusiasmo ed affetto. Parlo in catalano, anzi in algherese. Bastano queste parole di Carles Puigdemont per fare capire a tutti che ad Alghero è a casa. Le immagini del bagno di folla per le strade e l'incontro con il sindaco lo confermano. Quelle del resto sono state ore difficili, racconta ma non imprevedibili. La Spagna prova incessantemente a limitare la nostra libertà politica ed a calpestare i diritti riconosciuti in tutta Europa. Ma continuerò a lottare per l'autodeterminazione. Poi spiega che non teme l'udienza del 4 ottobre. L'altro ieri la giustizia italiana ci ha messo poche ore a decidere che la Spagna non può prendermi, come ha fatto prima di lei il Belgio, la Francia o la Germania. Il 4 per l'udienza di estradizione, Saro qui, conferma. In effetti ha poco da temere, sia giudicamente, visto che il limbo della sua immunità di parlamentare europeo è ancora attivo, che politicamente, non essendo più un bersaglio del governo di Madrid, almeno fino a che ci saranno i socialisti. Pedro Sanchez ha concesso l'indulto alla classe dirigente che aveva cercato di portare a compimento il referendum per l'indipendenza ed ora che ha una linea di dialogo forte con il presidente della Generalità, Pera Ragones, non vuole perderla. Sanchez ha bisogno dei catalani per fare passare la legge di bilancio e dunque per la sopravvivenza del governo. Puigdemont in carcere è un inciampo che non si può permettere perché, come ha affermato l'ex vice proprio di Puigdemont, Ariel Junqueras, chi ci guadagna da un arresto dell'ex leader catalano è la destra, il Partito Popolare e Vox, che stanno lavorando per un cambio di maggioranza a Madrid. E di almeno tre morti e una cinquantina di feriti, il bilancio ancora provvisorio del deragliamento avvenuto nel nord dello stato della Montana di un treno ad alta velocità che viaggiava da Chicago a Seattle. Sul treno c'erano 147 passeggeri e 13 membri di equipaggio. Almeno cinque i convogli coinvolti nell'incidente ferroviario le cui cause sono ancora sconosciute. I passeggeri hanno raccontato di aver sentito forti vibrazioni durante il viaggio, simili alla turbolenza che si avverte in aereo. E adesso l'omicidio di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temu in Valcamonica, come abbiamo già raccontato, sono state arrestate due delle sue tre figlie, più il fidanzato di una di esse. Tutti sono accusati appunto del delitto. E ha parlato la terza figlia e ha raccontato l'atmosfera che si viveva in quella casa. Lucia, la seconda delle sorelle Zani, ha riferito subito agli investigatori i suoi sospetti. Non mi fidavo più di loro due, anche se non credevo arrivassero ad uccidere la mamma. Ha raccontato anche delle pretese economiche di Silvia e Paola per il vasto patrimonio immobiliare di famiglia. Le due ragazze, 27 e 19 anni, accusate dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere della madre, Laura Ziliani, da venerdì sono detenute nel carcere femminile, Bresciano di Versiano. Discutevano per i soldi, dicevano che mamma non gliene dava abbastanza, racconta Lucia, 25 anni, un lieve ritardo cognitivo. E riferisce che alla madre non piaceva affatto Mirto Milano, fidanzato da anni di Silvia, la figlia maggiore, ed amante della più piccola, Paola. Il giovane, arrestato anche lui per l'omicidio dell'ex vigilessa, viene indicato come il manipolatore delle sorelle, che non riuscendo, per motivi caratteriali, a contrastare la volontà materna, hanno preferito sopprimere la genitrice, scrive il GIP. Secondo gli inquirenti sarebbe stato proprio Mirto la mente del trio criminale, tanto da cercare di depistare le indagini parlando di una fuga volontaria di Laura Ziliani per rifarsi una vita e scappare dai debitori. Ma la donna non aveva alcun debito. A pochi giorni dalla scomparsa, Mirto inizia a gestire gli affitti delle case di Laura Ziliani, intimando anche rincari. Le intercettazioni registrano la gioia delle sorelle per i soldi che a breve sarebbero stati a loro disposizione. Un'unica ombra preoccupa i tre, che possa essere nominato un tutore per Lucia a causa della sua patologia. Questo sarebbe stato un ostacolo al loro obiettivo di gestire liberamente la cospicua eredità e qualcuno in paese sospetta che anche Lucia potesse essere nel mirino dei tre, unico intralcio alla futura bella vita. Adesso la pagina dello sport. Iniziamo dall'impresa Elisa Balsamo che ha regalato all'Italia la terza medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo in Belgio nella prova elite femminile. La Balsamo, la 23enne, si è imposta precedendo l'olandese Marianne Foss che tra l'altro era inserita nell'otto delle favorite. Oggi tocca, nella stessa specialità, agli uomini. E' una vittoria di squadra quella di Elisa Balsamo che ha conquistato la terza medaglia d'oro italiana ai mondiali delle Fiandre. Vincere qui è come vincere a Wimbledon o Wembley perché le Fiandre rappresentano la tradizione delle grandi corse in linea. Chi vince alle Fiandre entra nella storia. Elisa Balsamo, da Cuneo, ha solo 23 anni ma tanta energia, fa parte di uno squadrone di azzure che si sono aiutate una con l'altro nei chilometri finali con grande altruismo. Non era facile indovinare la tattica di gara e non era facile metterla in pratica ma l'Italia delle donne è stata perfetta. A meno di un chilometro dal traguardo le azzure si sono scambiate le posizioni nel gruppo di testa ma a tirare la volata è stata la veterana Elisa Longo Borghini un nome, una garanzia che ha lanciato la giovane Elisa vittoriosa sulla pluridecorata olandese Marianne Voss. È stata una corsa veloce e tirata soprattutto nella seconda parte però davvero abbiamo corso in modo perfetto senza sbagliare nulla e le ragazze tutte dalla prima all'ultima sono state veramente fantastiche. La giovane Balsamo è scattata sui pedali con una frequenza impressionante ha preso il comando e l'ha tenuto. All'arrivo lacrime di gioia bellissima l'immagine di tutte le azzurre abbracciate insieme proprio una grande vittoria di squadra. Oggi tocca gli uomini su un percorso che ricalca quello del mitico giro delle Fiandre l'Italia cerca di aggiungere la ciliegina sulla torta ma per il momento siamo a tre ori e un bronzo. Il Milan batte lo spezia Grazie anche al contributo realizzativo di Daniel Maldini nipote e figlio d'arte si porta momentaneamente in vetta la classifica in attesa della partita del Napoli stasera contro il Cagliari pari tra Atalanta e Inter ma oggi si gioca anche il derby della capitale tra Lazio e Roma. Il Milan si riprende momentaneamente la testa della classifica ma quanta fatica in casa di uno spezia addirittura migliore nel primo tempo in questo sofferto 2-1 c'è il gol d'un predestinato nella sua prima da titolare con la maglia del Milan Daniel Maldini segue le orme di nonno Cesare e papà Paolo presente in tribuna a festeggiare il suo primo gol in Serie A in una sfida che ha visto però lo spezia reagire ottenendo il pari con un tiro di verde deviato nettamente da Tonali ma ci ha pensato nei minuti finali il neoentrato Brahim Diaz a regalare successo e primato in solitario al Milan poiché l'Atalanta ha costretto al pari l'Inter nel big match di San Siro spettacolo e gol con i nerazzurri in vantaggio al quinto minuto grazie alla conclusione acrobatica di Lautaro vehemente la reazione dell'Atalanta che ha ottenuto il pari sul potente esterno sinistro dal limite di Malinowski chiudendo addirittura in vantaggio il primo tempo grazie a Toloi l'esto a ribadire in rete la corta respinta di Andanovic su un tiro ancora di Malinowski da azione e fotocopia l'Inter pari già iniziò ripresa con Edin Dzeko che mette in gol da due passi finale al cardiopalma con Di Marco che stampa sulla traversa un rigore concessa ai nerazzurri e l'Atalanta che si vede annullare dal bar la rete della possibile vittoria in quanto la palla respinta da Andanovic aveva già superato la linea di fondo nell'ultimo anticipo di ieri spettacolare pari tra il Genoa e un Verona andato addirittura sul 2-0 grazie alle reti dell'ex Simeone di Barak su rigore nel finale di gara in uno spazio di soli nove minuti i Luguri la ribaltano con Crescito sempre su rigore e con la doppietta di uno scatenato Mattia Destro ma in pieno recupero Nicola Kalinic realizza il definitivo 3-3 il programma odierno che verrà aperto alle 12.30 da Juventus Sampdoria avrà il suo clou con il derby delle 18 tra Lazio e Roma inedito per entrambi i tecnici con le emozioni di Maurizio Sarri e il pragmatismo di Giuseppe Murigno vogliamo vincere e quando noi vinciamo voglio uscire del campo con la sensazione che i ragazzi hanno dato tutto da bambini vedendo un Lazio-Roma o ascoltandola alla radio sognavo un giorno di poterla giocare quindi ci siamo e giochiamola il posticipo serale sarà invece l'occasione per il Napoli di riprendersi la testa solitaria della classifica ostacolo da superare il Cagliari dell'ex Walter Mazzari Lando Norris su McLaren partirà in pole position a Sochi oggi pomeriggio nel Gran Premio di Russia di Formula 1 ha sfiorato il colpaccio caro Sainz ma lo spagnolo della Ferrari si è dovuto accontentare del secondo posto in griglia con un ritardo di 517 millesimi dietro scatteranno la Williams di Russell e la Mercedes di Lewis Hamilton il campione del mondo ha commesso un errore mentre rientrava nella corsia dei box sul finire della Q3 un pelo di controsterzo di troppo ed il muso della sua vettura ha picchiato sul muro danneggiandosi partiranno dal fondo dello schieramento la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc entrambi hanno sostituito il propulsore e chiudiamo purtroppo con una brutta notizia perché c'è una nuova tragedia in pista nel mondo del motociclismo morto ieri infatti all'età di 15 anni Dean Bertha Vignales cugino del più famoso pilota della MotoGP Maverick l'incidente è avvenuto sul circuito spagnolo di Erez della Frontera nella gara di Supersport 300 inserita nel calendario del mondiale Superbike al terzo ultimo giro Centauro Iberico è scivolato in curva ed è stato investito da alcune moto che lo seguivano inutili soccorsi in pista Vignales è morto poco dopo per le gravi ferite riportate oggi si correrà regolarmente come chiesto dalla famiglia dello stesso sportunato pilota queste le immagini siamo arrivati alla termine questo primo appuntamento col telegiornale sulla 7 il prossimo alle 13.30 a seguire adesso Paolo Sottocorona torna di nuovo con il meteo poi gli ospiti di Omnibus condotto da Flavia Fratello sono Costanza Eroescher Chiara Geloni Claudio Brachino Fabio Martini Sebastiano Messina Tonia Mastrobuoni Antonio Villa Franca grazie e buona giornata